Nelle ultime settimane Andrea Iannone e De Lodi si sono fatti vedere spesso insieme e secondo i beninformati lui sarebbe affascinato da lei. Il settimanale chi ha pubblicato delle nuove foto della coppia e propria una di queste è finita nelle storie Instagram di Fabrizio Corona che non ha perso l'occasione per lanciare una frecciatina velenosa all'ex fidanzato di Belen Rodriguez. L'ex re dei paparazzi ha scritto, ragazzi non sapevo di essermi messo con Elodie. Cosplayer, un evidente shad per la somiglianza tra il pilota di MotoGP e lui, e in effetti sembrano due gemelli. Fabrizio Corona contro Andrea Iannone e Ronaldo, in passato Fabrizio Corona aveva già attaccato in più occasioni Iannone. Due anni fa infatti l'imprenditore se l'era presa con Cristiano Ronaldo e Andrea. Sono la razza peggiore, sono degli ebeti, i peggiori sulla faccia della terra, tipo Ronaldo, uno SF asterisco asterisco ato cronico. L'unico rimasto che merita rispetto è Ibraimovic. Iannone? È un povero SF asterisco 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 tu anche lui. La cosa più triste è che per stare con Belen spendeva 3 milioni di euro l'anno e adesso Belen sta con uno che se fanno un weekend insieme al massimo spendono tanta euro. Stefano De Martino invece è ok lui è davvero un bravo ragazzo, l'incontro con Belen. E, come se non ci fossimo mai allontanati, che non avesse mai sposato Stefano De Martino, che non avesse mai amato Andrea Iannone io non fossi mai stato con Silvia. Selvaggia Lucarelli ha sempre voluto seca asterisco 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 mi. Il primo ricordo che ho di lei risale al 2002, un viaggio in auto da Roma-Milano dopo un programma su Rai 2, io, lei e il suo compagno Laerte Pappalardo. Poi nel 2009 avevo fondato un giornale e le avevo proposto la direzione. Lei mi chiese 10.000 euro al mese, io glieli stavo dando, ma al momento di firmare Belen viene da me e mi dice che se l'avessi presa, mi avrebbe lasciato. Era gelosa e aveva capito come sarebbe finita.